Non ho mai più rivisto corridoi così lunghi. Prima di darci la buonanotte, nostra madre raccontava che il palazzo era stato un grande albergo con tante camere e tanti viaggiatori di passaggio. Con i miei fratelli facevamo a gara chi inventasse la storia più assurda su chi avesse dormito un tempo nella nostra stanza. Ci trasferimmo lì, nel palazzo Calderai, appena le bombe smisero di cadere sulla città. Eravamo sfollati che ritornavano a casa. I bambini erano soliti giocare nel grande cortile interno. Che ridere! Ricordo ancora i primi lavori alle fognature. Gli operai rincorrevano i topi mentre noi scappavamo terrorizzati arrampicandoci sulle ringhiere, entrando nel primo portone di casa aperto da qualche inquilino per via delle urla. Ricordo pure i lavori al palazzo per alzarlo di un piano. Vennero ad abitarci molti sfollati istriani. Quanta fame che avevano, quanta fame che avevamo noi. Dentro al palazzo Calderai, potevi contare sull'aiuto di tutti. C'era chi sapeva fare le punture, chi dava lezioni di musica, chi ti aiutava con un piatto caldo ed una stufa accesa. E ancora, chi prestava la sua ingegnosità come falegname, sarta, cartomante. Nessuno in cambio voleva niente. La chiamavamo gentilezza, disponibilità, fratellanza. Era amicizia. I grossi pini che dominavano la piazza erano la culla estiva dei più anziani che prendevano il fresco seduti sulle panchine. Noi ragazzini facevamo avanti e indietro tra il chiostro dei gelati, il bar commercio ed il cortile. Sì, quel cortile era al centro del nostro mondo. Molti di quei bambini sono morti di meningite pochi anni dopo. Alcuni sono sopravvissuti. Altri sono diventati Gianni Brezza, Giancarlo Giannini, Toto Cutugno. Altri ancora, come me, raccontano di una parte della città che non hanno saputo più ritrovare. Di botteghe, di odori, di bellezze, di genitori che non esistono più.